A lui sicuramente no. Allora salutiamo l'Egitto, tra poco ci saranno anche i tamburi giapponesi, quindi rimanete qui perché tra poco arrivano i taiko. Ci trasferiamo in Corea del Sud perché c'è un gruppo di ballerine, loro sono due ma è una rappresentanza di un gruppo molto più folto, di un collettivo che viene proprio dalla Corea del Sud. E loro vivono in Germania, sono precisamente a Berlino, però appunto portano la tradizione del loro paese, della Corea del Sud, in giro per il mondo e ovviamente anche qui al Festival dell'Oriente. Si chiamano Berlin Korean Dance Project. Berlin. Oriente, oh caspita. 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 campane tibetane 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.